Tanti pensano, gente comunque a me vicina, ha fatto i soldi facili e quindi ha smesso di giocare a calcio. I soldi facili non esistono da nessuna parte, nel senso che dall'esterno può sembrare così, che sia facile anche il percorso imprenditoriale che ha avuto, ma in realtà è pieno di sofferenze come tutto nella vita. Cioè io penso che il prezzo da pagare del progresso e del miglioramento sia il dolore, la sofferenza, l'ansia, le cose negative soprattutto. E quindi più cose negative ho avuto nella vita, più successo puoi avere, secondo me.